Ciao a tutti, il 27 novembre scorso è stato emanato un decreto legge che sostanzialmente leggifera su due aspetti, Banca d'Italia e l'abolizione della seconda rata dell'Imu. Sono due aspetti, come capite, molto molto importanti, per cui, sapete, ci sembra strano che vengano mischiati in un solo decreto, perché rischiamo di essere davvero poco trasparenti, per cui abbiamo indagato a fondo su questa materia. È successo infatti che all'interno di questo decreto legge si vuole spostare, ed è questo l'obiettivo principale del decreto legge, si vogliono regalare 7 miliardi e mezzo agli azionisti di Banca d'Italia, quindi le banche, attraverso la cosiddetta ricapitalizzazione e quindi la riforma di Banca d'Italia. Ora, che cos'è che succede? Banca d'Italia ha come riserve patrimoniali divise in due. Il capitale, che sono 156 mila Euro e derivano da quello che è stato stabilito nel 1936, ed è in mano per il 95% a banche e assicurazioni, sostanzialmente, e poi ha il suo salvadanaio, che sono le riserve, che sono 23 miliardi di Euro. Queste riserve sono sostanzialmente pubbliche, perché derivano da tutto l'utile che Banca d'Italia, durante tutti gli anni, ha messo da parte attraverso l'esplettamento delle sue funzioni pubbliche in regime di monopolio, per cui sono soldi nostri. Cos'è che ora vuole fare il governo? Con la necessità di dover aggiornare quel capitale, che era 156 mila Euro, fermo appunto al 1936, ha detto, spostiamo 7 miliardi e mezzo dal nostro salvadanaio al capitale di Banca d'Italia. Quindi, soldi nostri, pubblici, dello Stato, finiscono nelle mani degli azionisti di Banca d'Italia, quindi banche, assicurazioni e quant'altro. Ora, noi abbiamo capito che cercavano di indorare la pillola, perché ovviamente far passare questo sarebbe stato un messaggio troppo forte. E allora, adesso Carla vi dice come hanno pensato di indorarci la cosiddetta pillola. Lo zuccherino, per indorare la pillola, sarebbe, appunto, l'abolizione parziale della seconda rata IMU 2013. Allora, noi come abbiamo reagito? Abbiamo presentato in commissione due emendamenti. Uno che abolisce tutta la parte relativa a Banca Italia e l'altra che abolisce, invece, totalmente la seconda rata dell'IMU 2013, quindi senza mini-IMU, attraverso un incremento del prelievo sul gioco d'azzardo. Sarà una battaglia dura, non so se passeranno i nostri emendamenti, perché quando si tratta delle loro tasche, sanno molto attenti e quindi la battaglia si fa veramente difficile. Se dovessero non passare i nostri emendamenti, però passeremo al contrattacco, saremo ancora più duri e quindi seguiteci, mi raccomando, tutti insieme dovete darci supporto.